Meta sempre più ambita da turisti e visitatori, Napoli e le sue bellezze si raccontano anche attraverso le voci degli studenti. Grazie al percorso di alternanza scuola-lavoro, alcune classi degli istituti superiori cittadini sono impegnate con il Comune nella promozione dei più importanti siti storici e monumentali. Al maschio angioino, gli alunni del liceo Piero Calamandrei hanno riservato ai turisti un'accoglienza speciale. Vestiti da antichi romani hanno inscenato una rappresentazione di Modestus, fornaio di Pompei travolto dall'eruzione del Vesuvio oltre 2000 anni fa. Sabato prossimo 20 maggio alle 11 in programma a Palazzo San Giacomo nell'ambito del Maggio dei Monumenti dedicato a Totò, visita guidata della sede del municipio e a seguire il concerto omaggio al Principe di Napoli del coro universitario Joseph Grima, accompagnato al pianoforte da Stefano Innamorati. È necessaria la prenotazione al link seguente. Tornano anche quest'anno i campi estivi a Mare Chiaro per i giovani che trascorreranno le vacanze in città. A partire dalla fine dell'anno scolastico, ogni settimana per circa tre mesi, il Centro Polifunzionale San Francesco d'Assisi ospiterà i ragazzi coinvolgendoli in attività ricreative, culturali e sociali. Per partecipare c'è tempo fino al 24 maggio, consultando l'avviso pubblico sul sito del Comune.